La critica è così limitante che l'anima si logora. Io speravo che avrebbe trovato una spiegazione più valida. Meglio uno o due? Meglio, peggio o uguale? È uguale. Tu cosa ne pensi? Sono curiosa. Che rimanere sobrio non gli fa bene. Pierce era in piena fase alcolica a quell'epoca. Esatto. Non dovevo smettere di bere. Non c'è originalità e neanche coraggio. Per me non posso salvarti. Ha scoperto una cosa. Chi li ha fatti? Assolutamente incredibile. Il tizio di sopra è morto. E tu li hai presi. Non aveva amici e parenti. Puoi diventare Rick? No, è mitica. Sappiate che la gente è disposta a uccidere per lui. Tu conosci un artista chiamato Vettril Diz? No, no, non c'è nel database. Ci sono tutti. Il tessuto è un campione di sangue. L'ha usato per creare il rosso scuro e le ombre. Non noti niente di strano. Se lo fissi a lungo, si muove. È l'arte di Diz. E chi di noi cerca di trarne profitto è in pericolo. Diz passò vent'anni in un ospedale psichiatrico per criminali. Esiste una specie di potere... ...del suo spirito. Sono collegati alla sua arte. Ma sta succedendo qualcosa di follemente strano e assurdo. Questo non è che un mattatoio. Tu lo sapevi che Diz voleva che tutte le sue opere venissero distrutte? Aiuto! Devi liberartene. Mettili in una cassa e addio. Non posso salvarti. Hanno pensato che fosse parte di Sfera. Siamo diventati virali su Instagram. Un successo mai riscontrato prima. Sfera. Sfera. Sfera.